La storia che io vi racconto, io ve la dico perché, nessuno la sa, un giorno che fuori pioveva, sette ragazzi in blu, decidono che, quella banca che sta di rimperta il caffè, è troppo gioli gioli per lasciarla così, se di grana ce n'è, si può prenderne un po' e n'acqua, la bon da bono, il colpo però va studiato, senza uno sbaglio perché, il ricoro c'è, si misero tutti al lavoro, sette ragazzi in blu, non uno di più, e decidono che, poco dopo le tre, quando il guardiano va a prendersi il tè, la rapina si fa con i mitra però, voilà. La bon da bono Ma non mi chiedete chi fu che sparò, perché, perché non lo so, E' sempre un errore sparare, però si può Sentendo la voce dei mitra, la polizia arrivò, veloce arrivò, e furono presi col fuoco, Sette ragazzi in blu, non uno di più, si difesero ma, erano cento di più, E allora così, così ne morirono tre, mi dispiace però, che nessuno scappò, finì, La bon da bono Nessuno vivrà, finché sparerà, ma sempre per tutta la vita, io mi ricorderò, la banda bono Aizan Grazie a tutti.